ciao a tutti e benvenuti su on the nature of light il podcast dove parliamo di fotografia e cultura dell'immagine senza giudicare nessuno se siete qui per la prima volta vi consiglio di andare sul sito on the nature of light.com metto ovviamente il link in descrizione per avere un quadro completo del progetto e trovare tutti gli strumenti di ascolto disponibili da spotify itunes eccetera eccetera io sono alessio bottiroli per gli amici acu e come voi sono portato dall'istinto e dalla mia sempre presente hubris a giudicare le fotografie al primo sguardo e in modo diciamo un po transciante ma nel tempo ho imparato come evitare di cadere in questo grave errore un mio amico paolo aldighieri in arte e riadano una volta aveva un fumetto meraviglioso un fumetto online che parlava della sua vita e della sua psiche e uno dei miei personaggi preferiti e del suo super ego era un gigantesco eridan che viveva incatenato nella sua mente e però era sempre pronto a spezzare le catene per uscire e dare il meglio di sé e lui in qualche modo comunque riusciva sempre a tenere la bada tutti noi abbiamo un nostro super ego ma in fotografia così come in generale bisogna imparare a tenere la bada se non altro per amore della varietà e delle potenzialità altrui e ne parliamo dopo la sigla quando si va a scuola e si inizia a studiare letteratura italiana generalmente l'insegnante chiede agli studenti di procurarsi una copia di un librone che comunemente viene chiamato antologia un'antologia è non nient'altro che una raccolta di brani più o meno lunghi rappresentativi di un certo periodo storico di un movimento artistico oppure di un autore in particolare non essendo per esempio fattibile mettiamo un esempio la lettura integrale dei promessi sposi durante le ore di lezione ecco che l'antologia ci viene in aiuto scegliendo al posto nostro i passaggi più importanti più rappresentativi il problema è che il tempo passa e le antologie andrebbero sempre aggiornate per includere anche brani del recente passato se non direttamente della contemporaneità quindi i curatori di questi ponderosi tomi sono sempre con le orecchie dritte e le antenne puntate per cercare di capire quando come e cosa aggiungere alle loro opere per rendere obsoleta l'edizione precedente e costringere le famiglie ad acquistare il libro nuovo pena lasciare il figlio senza una parte del materiale di studio e questa cosa è una cosa che si ripete praticamente ogni anno questo diciamo che è vero e proprio guerrilla marketing one on one e non siamo nemmeno qui a parlarne è proprio imbattibile mi sento quindi di fare un regalo a questi lavoratori indefessi dell'estrazione letterale a fine di lucro e voglio segnalare loro una delle vette della letteratura contemporanea nella quale mi sono imbattuto il mio malgrado me lo ricordo benissimo il 27 gennaio del 2020 mentre distrattamente stavo sfogliando su facebook delle immagini in un gruppo di fotografia dedicato ad una certa marca di macchine fotografiche la posì in questione è lapidaria ma lascia grande spazio l'interpretazione sembrerebbe uscita dalla mente di ungaretti e se non fossimo certi del fatto che il buon giuseppe è morto schiettato e sepolto da decenni uno potrebbe anche gridare al miracolo il maestro del quale farò il nome solo l'antologista che mi pagherai di più a commento di un'immagine che ritraeva una persona una ragazza piuttosto discinta in una posa miccante ha scritto queste meravigliose parole lei è figa ma la foto fa cagare coglione anche senza stare a resumare De Sanctis per chiedergli la sua opinione in merito è chiaro che siamo davanti al capolavoro così poche parole eppure così tanto da dire veramente veramente notevole il genere letterario è definibile come criticismo blastante postmoderno ed io sinceramente non lo sopporto più contemporaneamente si riesce ad umiliare il fotografo rendere la modella unicamente un oggetto insultare gratuitamente e lasciare inteso tra le righe che noi avremmo fatto molto molto meglio è una tendenza ormai dilagante nel mondo della fotografia la presunzione di poter assumere il ruolo di giudice nel momento in cui ci viene proposta una fotografia ci rende cinici meschini brutti e rende le community fotografiche tra le più tossiche tra quelle che si possono incontrare online un commento del genere nella migliore delle ipotesi viene ignorato dal fotografo che lo riceve ma non è non è non è una cosa semplice non è facile probabilmente l'effetto che otterrà sarà quello di avvilire il fotografo e magari fargli passare la passione per la fotografia e certo e qualcuno mi dirà ma non è mica obbligato gliel'ha detto il dottore di pubblicare la sua foto e no no certo non era obbligato non gliel'ha detto il dottore ma io vorrei che vi ricordaste di quando avete iniziato a fotografare voi il giorno per esempio che avete scoperto come funziona l'apertura del diaframma e l'esaltazione che avete provato quando per la prima volta siete riusciti a separare il soggetto dallo sfondo o la prima volta che siete riusciti a ottenere una buona lunga esposizione quella sensazione di essere migliorati il piccolo orgoglio di aver fatto qualcosa che ci piace per il puro gusto di farlo per la voglia di imparare per il divertimento che ci provoca l'idea che improvvisamente le nostre opzioni siano di più e che sappiate anche cosa farne io me lo ricordo avevo fotografato un paio di scarpe vecchie sul pavimento in parquet di mia nonna e voi per la luce favorevole del tutto casuale ovviamente voi per l'idea di avvicinarmi molto soggetto alla fine mi era uscita una foto con le scarpe belle a fuoco e lo sfondo tutto sfocato cremoso e quell'immagine per me era un vero capolavoro la sera al circolo fotografico l'ho subito fatta vedere a tutti perché questo è quello che vuoi fare quando fai una fotografia vuoi comunicare vuoi farle vedere le tue fotografie no tenetene in un cassetto è naturale è la natura umana che ti porta a voler mostrare quello che hai fatto è proprio il motivo per cui siamo esseri umani e dentro e dentro questo tuo mostrare la fotografia c'è dentro l'orgoglio forse anche un piccolo accenno di ignoranza certo l'effetto danni kruger scorre potente in voi in quelle prime volte quando pensate di aver afferrato qualcosa per davvero così mostrate quella foto e quello che vi dicono è fa cagare coglione qualcuno potrebbe anche smettere di fotografare per una cosa del genere e che che ne dicano i fotografi finto artisti che comandano in italia e purtroppo anche nel mondo dall'alto del loro elitismo da quattro soldi pezzenti quando qualcuno smette di fotografare di comunicare a perderci siamo tutti perché non possiamo più sapere nel tempo che cosa avrebbe fatto quella persona che cosa avrebbe regalato all'umanità se avrebbe regalato qualcosa il dubbio dovrebbe farci contorcere le budella sapendo che abbiamo contribuito a che una voce si spegnesse certo bisogna ammettere cioè avrebbe anche potuto continuare a fare foto brutte ma magari invece avrebbe potuto migliorare e regalare appunto regalare qualcosa a tutti quanti che poi qualcuno mi deve pur spiegare prima o poi e magari ne parleremo anche diffusamente in un altro episodio di che cosa significa la locuzione brutta fotografia perché ci sono interi corpus artistici importantissimi che sono composti di fotografie che se messe su un forum qualunque riceverebbero commenti del tipo di cui vi ho appena raccontato in queste 14 puntate del podcast almeno due riguardano artisti che non passerebbero il vaglio di questi blastatori da strapazzo egoisti prestati al commento questi ignoranti dell'umana compassione laddove per compassione attenzione intendo la capacità di medesimarsi nell'altro e provare a capire il suo punto di vista e il suo intento fotografico l'intento questa cosa misteriosa che può dare senso a qualunque cosa anche ad una banana appiccicata con lo scotch ad un muro e che però nessuno sembra prendere in considerazione quando si tratta di dispensare giudizi a dire cosa sia giusto e cosa sia sbagliato e allora ti dicono meglio se smetti datti all'ippica e sto cercando di non scadere nella vulgarità oppure quando qualcuno pone una domanda banale forse anche stupida diciamolo tutti a fare sarcasmo e di ironia come se la risposta non fosse qualcosa che si impara facendo la domanda ma fosse instillata in ogni fotografo nella testa di ogni fotografo nel momento in cui per caso prendi in mano una macchina fotografica uno prende in mano una macchina fotografica e sa istantaneamente come si ottiene una lunga esposizione come si usa il flash tutte cose che vengono automatiche no invece non è ovviamente così quel quel sarcasmo sdoganato da personaggi importanti del panorama culturale scientifico oggi lo chiamiamo blastaggio ed è una delle derive peggiori nelle quali certi social stanno trascinando la gente trascinando tante altre persone è proprio una spirale senza fine di sarcasmo da due soldi un cumulo nembo di presunzione pronta a rovesciare i suoi insulti sulla gente che fa domani perché all'inizio se ci pensiamo è anche abbastanza comprensibile no cioè benedusi o burrione o mentana alla millesima volta che sentono dire una stupidata non ce la fanno più e scatta la risposta salace il blastaggio ok io non lo trovo corretto nemmeno per quando lo fanno loro però posso capire il perché lo facciano ma il problema è che per quanto sia sbagliato appunto il loro comportamento questo sdogana e anzi incita il dilagare di emuli che che senza la loro grande esperienza ma forti del fatto che ormai si può fare iniziano a rispondere in quel modo a qualunque cosa e la differenza tra una domanda stupida ed una malposta o tra una foto volgare e una non ben riuscita si assoltiglia ogni giorno tanto che persino io sinceramente in alcuni casi ho timore a pubblicare fotografie magari un po più sperimentali dove magari utilizzo tecniche che non so padroneggiare perfettamente e ovviamente so di aver commesso degli errori ma sulle quali vorrei però un'opinione onesta per capire dove migliorare perché so già che aprirei il fianco a blastatori che non hanno che che non hanno niente da fare di meglio che sparare a zero su di me su di me di cui non sanno nulla del non sanno niente del mio bagaglio culturale del perché ho scattato con l'immagine del mio stato d'animo e del mio intento e quindi non ho voglia di sentirmi dire fa cagare coglione oppure le sempreverdi ma perché non leggi il manuale perché prima di fotografare non inizi leggendo libri di fotografia e magari questi imbecilli che non hanno mai letto ti consigliano di leggerti la camera chiara di bars perché fa figo dirlo come se loro non avessero mai fatto una brutta fotografia non avessero mai sbagliato in inquadratura non avessero mai avuto dubbi banali ho fatto una brutta figura questo è quello che la cultura del blastaggio sta creando un esercito di giudici impreparati e cattivi che riversano sugli altri le loro stesse insicurezze ci sono addirittura delle pagine dedicate alla presa per i fondelli di persone inesperte o fotografi presunti incapaci a loro insaputa come ad esempio le avventure di fotografo presso fotografo e modella presso modella o senso fotografia e pastorizia questi nomi aulici indico queste due pagine per indicarle tutte perché sono tutte uguali sono tutte fatte dalle stesse persone più o meno sono sempre gli stessi queste pagine sono esattamente l'espressione del blastaggio più ignorante supponente una cloaca di paternalismo supponente mancanza di rispetto che mi ripugna e io non voglio alimentare questo mondo malato io voglio che comunicare con la fotografia se per tutti come lo è per me una delle cose più divertenti che si possono fare nella vita che lo fa per lavoro certamente anche delle grandi responsabilità e quindi anche una buona dose di stress con le legate alla fotografia ma nessuno sanno di mente si lancierebbe in questo settore super costoso tra l'altro se fare fotografia sentire il click dell'otturatore vedere l'immagine formarsi nel merino non fosse una delle cose più divertenti e soddisfacenti che si possano fare quindi io adesso vi propongo un brevissimo manuale che mi sono autoimposto di quattro consigli per iniziare ad essere dei buoni commentatori e critici e per dare la possibilità a tutti di crescere e divertirsi con in mano una stramaledetta macchina fotografica punto primo rispetta la persona non sai nulla di chi ti mostra una fotografia nemmeno se presumi di saperlo famoso sconosciuto che sia ogni fotografo ed ogni persona se per questo è un vero mistero non puoi dire di conoscere qualcuno perché vedi quello che fa nella sua scena pubblica dai siamo sinceri è già difficile conoscere se stesse figuriamoci gli altri quindi la prima cosa è partire dal presupposto che la persona con la quale ci stiamo relazionando sia in buona fede soprattutto in ambito espressivo ed artistico non essere tu il primo a fare lo stronzo per dirla proprio terra terra punto secondo se non hai nulla di positivo da dire non dire nulla è facilissimo ci penseranno sicuramente gli altri sparare a zero tu potresti essere quello che nel plotone di esecuzione si rifiuti di uccidere il condannato a morte e per quanto mi riguarda questo fa di te una persona certamente migliore punto terzo se qualcosa di positivo da dire ce l'hai dillo prima inizia col dire quello che ti piace di una certa immagine e può essere di tutto dall'idea la realizzazione ai costumi la luce qualunque cosa ti ispiri di quell'immagine ti piaccia poi puoi aggiungere quelli che ti sembrano i difetti sempre cercando di far passare il messaggio come un consiglio non si tratta ovviamente di indorare la pillola non ce n'è bisogno ma si tratta di dare segnali incoraggianti che potrebbero motivare la passione di qualcuno e contemporaneamente dargli spunti su cui riflettere spunti che questo è molto importante sono tali dal vostro punto di vista quarto ed ultimo punto se non hai tempo di spiegare bene qualcosa taci non scrivere non parlare non giudicare non è una gara che blasta per prima esiste un bias cognitivo potentissimo che si chiama backfire effect vi metto in descrizione il link ad un podcast americano che si chiama you're not so smart che si occupa proprio di bias o di bias e che sul backfire effect ha dedicato non una non due ma quattro puntate ascoltatelo se masticate l'inglese fatevi un favore metteteci il tempo che volete ascoltatelo spizziche bocconi quando andate a fare jogging in qualunque momento ma fatelo perché cambierà totalmente il vostro approccio con gli altri e lo cambierà in meglio ve lo assicuro a me è successo tutti questi quattro punti potrebbero essere condensati in un unico consiglio vale a dire quello di essere educati e provare a dimmedesimarsi negli altri cosa che purtroppo sempre meno persone provano a fare in tutti gli ambiti io con risultati alternanti ci provo sempre hey io non voglio giudicare nessuno ma se siete arrivati in fondo a questo episodio siete delle belle persone e non so come ringraziarvi di esistere sto iniziando a ricevere molti commenti sugli episodi anche sul mio account telegram cercatemi sono alessio bottiroli metto la link di descrizione se volete farmi sapere la vostra e devo dire che la maggior parte sono commenti positivi di incoraggianti ma come naturale che sia una parte sono anche di critica fortunatamente non so se sia un caso sia perché un podcast sulla lettura e la critica fotografica rappresenti un po già un filtro di per sé le critiche che mi avete fatto sono sempre state educate ben poste e mi daranno modo di migliorare sicuramente anzi più ascoltate le puntate più vi accorgete che cerco di implementare alcuni dei consigli che mi avete dato vorrei però rispondere in particolare al messaggio di alessandro il quale invece non è stato molto educato e dal quale poi ho avuto anche lo spunto per scrivere questa puntata il messaggio è questo ve lo relico letteralmente ma tu che qualifica hai per permetterti di parlare di gianni berengo gardin perché non trovo il tuo nome da nessuna parte se non in firma delle foto di merda grazie alessandro caro alessandro posto che non serve nessuna qualifica per esprimere il proprio pensiero e questa dovrebbe essere tutta la risposta di cui hai bisogno ma aggiungo anche che come vedi il tuo commento idiota non mi ha proprio impedito assolutamente di proseguire nel mio progetto spero quindi in futuro di farti di credere almeno sulla mia fotografia ma se così non fosse pace ok vai con dio vivi la tua vita per tutti gli altri ancora una volta grazie davvero vi abbraccio e anzi rilancio perché se vi piace quello che stiamo facendo qui insieme su on the nature of light avete un po' di cose che potreste prendere in considerazione di fare per dare una mano a rendere questo podcast sempre migliore per tutti innanzitutto sarebbe veramente bellissimo se vi andasse di condividere questa puntata con qualcuno che potrebbe essere interessato all'argomento senza spammare ma con lo spirito di offrire qualche spunto di riflessione a persone che potrebbero farne buon uso un'altra cosa bella che potete fare è iscrivervi al canale telegram on the nature of light sempre link in descrizione per ricevere anticipazione approfondimenti e spunti di riflessione anche durante la settimana c'è chi è già iscritto al canale sa che la scorsa settimana ho iniziato a condividere un contenuto al giorno e spero di mantenere questo ritmo il più possibile salvo ovviamente causa di forza maggiore se invece volete parlarmi direttamente cercatemi su telegram mi trovate con lo username alessio bottiroli sempre link in descrizione e sarei felice di ricevere i vostri feedback rispondo a tutti magari qualche ora perché comunque mi tocca lavorare di giorno insomma come tutti quanti però poi alla fine rispondo e anzi ho intavolato discussioni veramente interessanti con molti di voi infine vi ricordo come sempre che c'è anche il sito on the nature of light.com dove in una sola pagina avete tutto quello che serve per seguire il progetto ho anche fatto un video di me mentre facevo il podcast da mettere su youtube quindi se lo se vedete il video su youtube sappiate che è un esperimento fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti e alla prossima ciao